ahhh che bello che ti sei papà bellissimo signor Belindo vuoi portate gioia tutti noi cambiare lenzuola certamente signor colverare come ho i comodini sarà fatto signor per amare i miei e poi i miei grazie molti grazie signor se non era per tutti e stavolta ieri fuori questa cacqua non sei casa tua io neanche ti calco questa non sei casa tua mi sono sfortunato questa sia verità guarda che pensierino che ti ha portato ho guardato il peggio si mancavo si è giusto Tarquinio a Pesavento 19 anni di pittura e di silenzio l'artista qui è l'influenza che sua sorella è amata si si ah oh signor oh madonna santa il mondo se è sordo Cipriano che ha già fatto il diploma di 9 anni e adesso boia di quel cagliaglina 34 di anni Gioia guarda praticamente stamattina non carburo qui stai esagerando questo taglio è all'ultima moda lo facciamo tutto senza dir che niente a Berardo respira come insegna il corso di preparto ridi Berardo ridi caro usa tutta la tua ironia è il mondo se proprio sordo e ora Berardo fa come tua sorella tasia grazie a tutti